che bello nuovo servizio di tutto subito che impedisce o meglio dovrebbe impedire le truffe sulla piattaforma ma si sa i furbetti sono sempre dietro l'angolo non preoccupatevi però perché in questo video vi spiego come non cascarci che cosa fareste senza di me ciao a tutti sono daniele bentornati su subri channel oggi vi spiegherò come non cadere nelle trappole dei truffatori su subito ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno purtroppo lo sappiamo che i truffatori ne scogitano sempre una per riuscire ad aggirare il sistema e in questo caso tocca a subito che ha messo in campo proprio il servizio tutto subito di cui vi ho già spiegato sia come funziona a grandi linee sia come spedire proprio con subito hanno escogitato proprio il sistema di aggirare questa messa in atto da parte di subito per rendere proprio più sicura la piattaforma e in questo caso la truffa coinvolge sia gli acquirenti sia i venditori e c'è anche il rischio di trovarsi la carta clonata e svuotata da tutti i soldi che ci sono dentro ma non preoccupatevi perché in questo video vi spiegherò proprio come non cadere in questa nuova truffa ho già quindi spiegato in un altro mio video come funziona il servizio tutto subito ma se ve lo foste persi ve lo lascio qua sopra nelle schede e qua sotto in descrizione però prima ed obbligo un piccolo ripassino proprio per capire come funziona il servizio e vedere quindi come poi viene messa in atto la truffa sia che si voglia vendere un oggetto sia che si voglia acquistare un oggetto innanzitutto dalla parte dell'acquirente la questione è molto semplice perché quando si vede un annuncio su subito si può contattare il venditore tramite chat e spunterà immediatamente la possibilità di fare un acquisto a distanza tutto ciò quindi serve per proteggere l'acquirente da una possibile truffa da parte del venditore che potrebbe spedire un oggetto non conforme alla descrizione quindi magari non funzionante o diverso da quanto descritto o proprio non spedire affatto l'oggetto in automatico dalla parte del venditore arriverà un messaggio sulla chat di subito nella quale si vedrà la proposta fatta dall'acquirente per il pagamento dell'oggetto più la spedizione quindi ora è tutto nelle mani del venditore che dovrà eventualmente accettare la proposta fatta dall'acquirente occuparsi della spedizione con il servizio tutto subito oppure spedendo lui stesso il pacchetto però questo l'ho già trattato in un altro mio video quindi non ce ne occupiamo ora ma se ve lo foste persi vi invito ad andarlo a recuperare perché è un video molto interessante su come funziona la spedizione con subito ora però concentriamoci su come funziona la truffa se vogliamo fare un acquisto durante un acquisto su subito potrebbe essere normale richiedere al venditore un numero di telefono se non è già pubblico proprio per contattarlo ed avere maggiori chiarimenti o per una sicurezza in più proprio dell'acquirente oppure potrebbe essere il venditore stesso a dire guarda sentiamoci per telefono perché mi trovo meglio magari su whatsapp ti mando anche due video su come funziona l'oggetto mi avete però contattato in tanti tramite messaggi privati o commenti sotto al video riguardante subito dicendomi di aver ricevuto dei link da parte del venditore proprio tramite eventuale chat di whatsapp o sms che sia come ho dedotto da quello che mi avete spiegato quindi lo scopo del venditore è proprio quello di portarvi fuori dalla chat di subito nella quale non potrebbe inviarvi dei link specifici perché verrebbero oscurati dalla piattaforma invece link che possono arrivare tramite whatsapp oppure sms e il venditore dice proprio di voler usufruire del servizio tutto subito in questo caso non bisogna assolutamente fare nessun tipo di pagamento tramite quel link anche se quel link contiene la parola subito e anche se quel link una volta aperto riporterà su una pagina di subito quello non è assolutamente il sito di subito e non è un sistema sicuro di pagamento questi link emulano al 100% il sito di subito ma non è il vero sito di subito infatti è un sito fatto ad hoc dai truffatori proprio per trarre in inganno gli ignari acquirenti quindi innanzitutto se pagherete un oggetto tramite questo link non riceverete assolutamente nulla a casa i truffatori si terranno semplicemente i vostri soldi ma peggio ancora ovviamente inserendo i dati della vostra carta i truffatori avranno in mano tutti i dati della vostra carta quindi il numero la data di scadenza e anche il codice segreto e in questo caso potrebbero anche svuotarvela se infatti una volta ricevuto questo link farete semplicemente la prova di ritornare sulla chat di subito e fare un'offerta tramite la chat di subito il venditore ovviamente non accetterà la vostra offerta chiedendovi magari di cliccare il link o capendo che siete persone un po più sgamate e quindi annullando semplicemente qualsiasi tipo di trattative magari bloccandovi anche sul numero di whatsapp quindi se riceverete un link del genere da parte del venditore mi spiace per voi ma è una truffa quindi vi consiglio di cercare un altro oggetto chiudere la chat bloccare questo venditore truffaldino e soprattutto segnalare l'annuncio a subito perché è importante per far chiudere l'account del venditore truffaldino e soprattutto evitare che altre persone possano cadere in questa truffa ora vediamo come i truffatori che si fingono acquirenti invece truffano i venditori che vogliono vendere un oggetto con tutto subito purtroppo come era prevedibile anche i venditori e non solo gli acquirenti hanno ricevuto dei tentativi di truffa con tutto subito e uno di voi mi ha proprio scritto per farmi presente questa truffa che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi l'acquirente truffaldino infatti ha contattato dapprima tramite chat di subito per poi spostarsi tramite mail il venditore e come potete leggere dai messaggi l'obiettivo era proprio quello di far uscire il venditore dalla vera e propria chat di subito proprio come nel caso precedente come detto in precedenza è un'operazione normale anche io spesso e volentieri da acquirente o da venditore sposto la chat al di fuori di subito per magari inviare dei video o per una sicurezza in più se sono un acquirente ma anche se sono un venditore questo quindi non vuol dire che se qualcuno vi chiede un contatto fuori piattaforma vi sta truffando il problema è che cosa si svolge dopo tramite questo contatto fuori piattaforma in questo caso infatti viene richiesta la mail collegata a subito proprio per effettuare il pagamento tramite tutto subito ma in realtà viene inviata all'indirizzo del venditore una mail di conferma di avvenuto pagamento con scritto che i soldi si sbloccheranno una volta che l'oggetto sarà spedito o ricevuto dall'acquirente questo ovviamente è solo un pezzo di verità perché è vero che il servizio tutto subito funziona così quindi il venditore spedisce l'oggetto una volta che l'acquirente l'ha ricevuto ha confermato che ovviamente sia tutto ok i fondi verranno sbloccati il problema è che in questo caso la mail è totalmente fasulla anche se assomiglia del tutto e per tutto alle mail che subito manda proprio perché lo scopo dell'acquirente truffaldino è quello di far spedire l'oggetto al venditore senza pagarlo ho detto all'inizio che per fortuna si è conclusa bene perché il venditore che è stato truffato ha notato una dimenticanza da parte dell'acquirente truffaldino diciamo un po' distratto ovvero la presenza della mail personale del truffatore al fondo della finta mail di pagamento quindi in questo caso il venditore ha preso in mano la situazione ha contattato il truffatore tramite la sua mail personale dicendo semplicemente o mi restituisci la merce o ti vado a fare una denuncia lui ha restituito la merce e tutto si è concluso nel migliore dei modi ma potrebbe non essere così per tante altre persone che magari lasciano perdere non vanno a fare neanche denuncia quindi il mio consiglio è quello di concludere la trattativa tramite chat di subito va benissimo il contatto esterno ma una volta finito il contatto esterno si chiede proprio di finire la trattativa tramite chat di subito quindi chiedendo in questo caso all'acquirente fammi un'offerta tramite chat io te l'accetto una volta accettata siamo a posto e ti spedisco l'oggetto se il venditore non volesse magari dicesse ah guarda io ti ho già pagato ti dovrebbe essere arrivato la mail ecco in questo caso lasciate assolutamente perdere è proprio una truffa spero quindi di avervi aiutato a far chiarezza su come si svolge la truffa tramite il servizio tutto subito sia che voi siate acquirenti sia che voi siate venditori ma per qualsiasi altro dubbio oppure domanda la sezione commenti è sempre aperta e il video non è finito qui e là ti troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da youtube mentre qui al centro il tasto per l'iscrizione non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network il prossimo appuntamento mercoledì alle 14